Ben trovate e ben trovati qui a Nerdface. Oggi si parla di LEGO. I più attenti di voi probabilmente si saranno accorti che già da qualche tempo su YouTube, Netflix, Prime Video e Boeing è disponibile una nuova serie, LEGO Dreams, con tre Z. LEGO Dreams racconta le avventure di 5 compagni di scuola. Si chiamano Matteo, Izzy, Cooper, Logan e Zoe. Tutti e 5 entrano in un'agenzia segreta per usare il potere della loro immaginazione e entrare nel mondo dei sogni e combattere così il malvagio re Nightmare e i suoi scagnozzi. Finalmente, già da qualche settimana, sono disponibili 10 set della LEGO dedicati per l'appunto al LEGO Dreams. E Feltrinelli ha inviato qui in redazione a Nerdface uno di questi set. Andiamo quindi a vedere qual è. Apriamo comunque la scatola e prendiamo questo set davvero molto molto bello. In più, poiché Feltrinelli ha lanciato una promozione alla quale noi ovviamente aderiamo, abbiamo ricevuto anche questo peluche di Z-Blob, uno dei personaggi di LEGO Dreams. Per tutti quanti gli utenti che andranno sul postor di Feltrinelli online spendendo almeno 37,90 euro in prodotti LEGO Dreams, ci sarà in omaggio Z-Blob. Non resta altro che montare questo set di LEGO Dreams e vedere il risultato finale. E dopo circa 3 ore di assemblaggio, ecco qui il nostro Fantastical Tree House, nome del set LEGO Dreams che Feltrinelli ci ha gentilmente messo a disposizione. Il manuale è piuttosto voluminoso perché conta oltre 300 pagine, ci guida però in modo molto semplice e dettagliato alla costruzione del Fantastical Tree House. Inoltre offre la possibilità da un certo momento in avanti di scegliere come proseguire nella costruzione del nostro set. Noi abbiamo scelto di assemblare sul tronco dell'albero questi tre elementi, diciamo così, abitativi, ma volendo, usando gli stessi identici pezzi, possiamo invece montare tre strutture difensive. Questa seconda scelta sarebbe effettivamente ideale nel momento in cui si vuole affrontare una battaglia contro Ray Nightmare e i suoi scagnozzi. In ogni caso, anche in questo assetto, i nostri protagonisti venderanno cara la pelle perché attivando questa leva si possono lanciare delle ciambelle o spingendo questi pulsanti si possono lanciare delle sfere di energia. Vi ricordo che sullo store online di Feltrinelli il Fantastical Tree House insieme agli altri 9 set di LEGO Dreams è disponibile per l'acquisto. Fino al 24 settembre poi è attiva la promozione grazie alla quale, acquistando almeno 37,90€ in LEGO Dreams, si avrà in omaggio il peluche di Ziblop. Come sempre vi invito a seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube naturalmente, e a commentare, a partecipare perché è solo così che si può livellare insieme. A presto!